Con il terzo modulo dell'iniziativa denominata Laboratorio Celestino V, è stato affrontato il libro L'avventura di un povero cristiano, in via Fortebraccio all'Aquila, nella cornice di Palazzo Alfieri, un evento imperdibile per gli amanti della letteratura. In programma, una riflessione ad altavoce del giornalista Angelo De Nicola sul libro di Ignazio Silone, con un riferimento del giornalista, studioso e critico letterario Goffredo Palmerini, legato alla moderna perdonanza celestiniana. Io sono stato chiamato ad aprire questa terza sessione, raccontando come rinacque la perdonanza celestiniana nel 1983. Per la verità, ho parlato anche degli anni precedenti, quando Padre Quirino cominciò la rivalutazione del Giubileo Aquilano e quindi sulla illuminazione ulteriore di Celestino V. E quindi ho raccontato quel 1983, poi anni a seguire, che poi hanno costituito uno degli eventi più importanti della rinascita spirituale, culturale, più ancora come memoria collettiva degli Aquilani, proprio con la perdonanza che poi, proprio attraverso la perdonanza, abbiamo avuto gli eventi più importanti, sia il riconoscimento unesco, l'apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco, che mai avremmo potuto immaginare, e finalmente anche l'Aquila Capitale della Cultura 2026. Durante l'incontro, alcune letture di brani scelti del romanzo affidate a Sabrina Giangrande. L'avventura di un povero cristiano, pubblicato nel 1968, è un romanzo di grande attualità, che affronta temi come il rapporto tra individuo e potere, la libertà di coscienza e la scelta tra fede e potere temporale. La storia ruota attorno alla figura di Celestino V, un eremita che viene eletto Papa contro la sua volontà. Il romanzo narra le sue vicende all'interno della Chiesa, le sue lotte contro la corruzione e il suo ultimo drammatico atto di ribellione, la rinuncia al papato. L'incontro per il terzo modulo dell'iniziativa del Laboratorio Celestino V è stata quindi un'occasione per approfondire la conoscenza di questo romanzo fondamentale della letteratura italiana, in un contesto suggestivo e stimolante, come Palazzo Alfieri, che ospita l'Istituto delle Suole Miccarelli all'Aquila.